Allora, io mi chiamo Franca Ferrando, allora ero già insegnante e poi però lavoravo anche come volontaria all'Ampi di Savona, associazione partigianica, allora aveva la sede in Corso Italia, al numero 10. Era un'associazione molto attiva dove c'erano anche tanti giovani che si chiamavano Nuova Resistenza, si esaminavano le situazioni, cosa voleva dire il fascismo oggi, dove c'erano dei fenomeni o delle situazioni che richiamavano quel passato, quindi spaziava il nostro ragionamento su tutto il mondo, non soltanto sul nostro paese. Quindi parlavamo di tante cose, c'era anche molta partecipazione, molto impegno, molto interesse per questi temi. La prima volta, credo che nessuno se l'aspettasse, che potesse succedere una cosa di questo genere, non mi ricordo precisamente dove ero. So però che ci fu una reazione immediata, anche perché esisteva già un tessuto particolare, insomma, di carattere sociale, di carattere politico, quindi anche negli anni precedenti alle esplosioni, già a partire dagli episodi di Piazza Fontana e avanti di lì, c'era molta sensibilità per questi temi. Savona è sempre stata una città antifascista, una città operaio, una città dove erano molto sentite queste cose, fin dagli anni Sessanta, quindi sicuramente non ci ha trovato impreparati, ecco anche quello che è successo in quegli anni. In quel periodo sicuramente c'era un certo allarme, perché è chiaro che dopo il primo episodio, poi dopo soprattutto la bomba, la prima bomba è che fosse quella della provincia, quella proprio, poi quella della scuola, quello ha impressionato molto, quindi c'era un clima anche, se vogliamo, di preoccupazione, però una preoccupazione abbastanza attiva, abbastanza attenta, insomma, non c'era uno sgomento direi, c'era disorientamento se vogliamo, ma molta paura e molto sgomento non c'era nelle persone, quindi si respirava un clima già di, come dire, di partecipazione attiva e c'era una certa, diciamo, tendenza a una reazione, ecco voglio dire, a rispondere quindi agli appelli che i comitati antifascista e tutti quanti facevano nelle varie zone della città. Teniamo conto che le organizzazioni antifascista era presente nella città, già da anni voglio dire, io ho riesaminato in questi giorni dei documenti che ho trovato all'Ampi, che ripercorrono la storia di quegli anni e già precedentemente esisteva un comitato unitario antifascista, già negli anni, all'inizio degli anni 70, poi in particolare dopo la strage di Brescia c'era stata la partecipazione a una grande assise nazionale su questo tema dell'antifascismo, delle bombe e c'era anche a Savona, era nata un comitato antifascista. Certo che con le bombe di Savona, proprio con gli episodi che ci riguardavano da vicino, questa cosa si era forzata, è stata ripresa, ci si riuniva quasi quotidianamente, la sede era quella dell'Ampi, di solito, anche quella della FIVL che era poco lontana, sempre in corso a Italia, erano le due organizzazioni partigiane e c'era la partecipazione di tutti i partiti dell'arco costituzionale. Io facevo i verbali per esempio delle riunioni del comitato antifascista, ho trovato dei verbali scritti a mano, ancora da me, che riprendevano quello che avveniva in quei giorni. La risposta è stata immediata, la risposta popolare, però la regia, io penso di poter dire che fosse una regia politica, però ampiamente unitaria, insomma voglio dire, la risposta c'è stata, la reazione è stata anche in un certo senso, se vogliamo spontanea, ma poi si è diffusa moltissimo, insomma, in modo spontaneo, esistevano però i comitati di quartiere, esistevano le parocche, le società di motosocorso, cioè c'erano dei luoghi di aggregazione delle persone e questi luoghi sono stati naturalmente quelli dove si si è organizzato tutto, si sono organizzate le ronde, erano anche gli anni in cui nella scuola cominciava a esserci la partecipazione con i decreti legati, le famiglie, gli studenti, ho visto dei documenti che mettono in evidenza l'esistenza nelle scuole anche di Savona, liceo scientifico in particolare, ma anche l'ITIS, di comitati, genitori e studenti che si organizzavano, fronteggiavano la situazione e quindi questo c'è stato sicuramente ed era una partecipazione, se vogliamo, molto bella anche perché una fraternizzazione tra le persone impegnate che erano moltissime, centinaia di persone, oggi è impressionante vedere, poi il comitato provinciale antifascista ha dato, diciamo, la parola d'ordine di costituire ovunque i comitati antifascisti, quindi sono stati costituiti nei comuni, nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche in particolare e hanno diretto poi tutta questa sorveglianza, tutta questa vigilanza democratica di cui la città ha dato un esempio straordinario, poi c'erano le manifestazioni oceani che veramente con una partecipazione enorme di persone immediatamente dopo che avveniva qualche cosa di grave. La reazione però era sempre una reazione molto positiva, consapevole, mai di panico, insomma, non c'è mai stato questo, penso di poterlo dire con sicurezza. Io vivevo per clima, anche con una certa, se vogliamo, esaltazione, una partecipazione emotiva, ci sentivamo forti, ecco, tutti quanti, di fronte a quello che stava avvenendo. Partecipavano tutti, c'erano rappresentanti, come dicevo, di tutti i partiti cosiddetti all'ora dell'arco costituzionale, cioè dalla democrazia cristiana al partito comunista e poi c'erano le associazioni partigiane e i sindacati. Questo erano, diciamo, il comitato provinciale era formato da rappresentanti di queste forze. Invece, nei vari, localmente, insomma, c'erano, in genere si tendeva, la parola d'ordine era di fare delle organizzazioni di tipo unitario, dove ci fossero tutte le forze, senza discriminazione. L'unica discriminazione era, naturalmente, verso quelli che si ritenevano i responsabili o comunque, in qualche modo, i fiancheggiatori, insomma, di questi avvenimenti che stavano succedendo a Savona. La coscienza che si trattava di bombe fasciste fu immediata, riconosciuta da tutti, e quindi questo era il clima, insomma, e questo è quello che avveniva. E anche nelle discussioni che si facevano nel comitato, ecco, fu affrontato, nel comitato provinciale fu affrontato, era affrontato di volta in volta il tema della vigilanza di massa, no? Che c'era. E naturalmente ci si preoccupava che non ci fossero degenerazioni, che non ci fossero episodi che potessero rappresentare delle risposte sbagliate alla provocazione fascista. In generale queste risposte c'erano, anche perché, appunto, ovunque c'erano i rappresentanti dei sindacati, delle forze politiche, delle associazioni partigiane, insomma, così. E c'era una grande fraternizzazione tra chi faceva queste cose e anche con le forze dell'ordine che erano preposte a vigilare e che hanno trovato nella popolazione un clima di collaborazione importante. C'erano tutti, insomma, c'erano sia le grandi personalità, anche di rilievo, il presidente del comitato antifascista, erano due praticamente presidenti, di fatto. Era il senatore Urbani e il comandante Speranza Urbani, era presidente delle Lampi allora, e era già senatore della Repubblica. L'Elio Speranza era, diciamo, il presidente della FIVL, dell'associazione dei partigiani cattolici, diciamo, che marciavano di pari passo. Loro c'erano sempre, praticamente, o comunque c'erano loro collaboratori. Quindi anche quella grande manifestazione è partita dall'impulso del comitato antifascista. Certamente la risposta allora è stata al di sopra, al di là delle aspettative, sia da parte della città ma anche da parte di chi veniva da fuori, perché a un certo punto Savona è diventata il centro di una lotta, di una reazione, di una capacità di risposta a quel tipo di provocazioni che è stata l'attenzione anche dei giornali, soprattutto c'erano giornalisti che venivano da tutta Italia e era diventato un caso nazionale. E quindi questo sicuramente ha dato un certo rilievo, un maggiore rilievo e ha dato, come dire, è venuto fuori, insomma, con molta chiarezza come quelle provocazioni a Savona non provocavano assolutamente la reazione di paura, di sgomento che gli organizzatori di quegli eventi si aspettavano. Insomma, anche se poi sappiamo tutti che le responsabilità non sono mai state accertate ed è stato tutto un sabbiato, i responsabili non sono mai venuti fuori, anche perché ci sono state sicuramente delle manchevolezze molto importanti a livello di chi conduceva le indagini, che sono state poi denunciate anche negli anni successivi. Però questo non toglie niente alla risposta di Savona, insomma. I dimenticati non sono stati, anche se, come ripeto, i responsabili di quelle bombe non sono mai stati individuati. Si capiva la matrice, sicuramente fin da subito è stato chiaro che erano sfide che venivano da una certa parte, però si capiva questo, ma chi era preposto a indagare non l'ha fatto nel modo che doveva farlo. Infatti ci sono stati anche poi dei provvedimenti nei confronti di alcuni responsabili che hanno praticamente insabbiato. Gli insabbiamenti sono stati cose provate, voglio dire. E' venduto fuori che non si è voluto trovare chi era, forse perché c'erano implicate delle persone o dei familiari di persone che occupavano posti di grande responsabilità allora a Savona. Quindi c'era questa differenza, insomma, tra una parte che era preposta, che avrebbe dovuto trovare i responsabili e chi invece cercava queste verità che venivano invece negate. Questo è evidente. Sono cambiate tante cose, voglio dire. Dopo gli anni 70, gli anni 80, eccetera, è subentrata anche una crisi generale che ha cancellato, ha sottovalutato, ha minimizzato anche la memoria di quei tempi. Sì, ha ragione. Forse i ragazzi come quelli che oggi si interessano di queste cose se non gliele dicessimo noi così non ne saprebbero niente, anche dei loro genitori. Questo è vero, insomma, questo è successo. E' giusto che oggi si cerchi di ripercorrere quegli anni e di capire anche quello che è avvenuto. Io non so, direi che sono cambiate troppe cose da allora, insomma, voglio dire. Allora era un momento, se vogliamo, anche negativo per certi aspetti, ma positivo per altri. Gli anni 70 erano un tempo di grandi speranze, di grandi sogni anche collettivi, insomma, che poi via via si sono spenti anche nella crisi della città, che è stata una crisi industriale, una crisi politica, una crisi di carattere generale che ha trasformato profondamente Savona. Ma Savona oggi non è più, ma non soltanto oggi, già negli anni 90 era diventata una cosa del tutto diversa, non c'erano più le fabbriche, non c'erano più le organizzazioni che c'erano allora. E quindi è il frutto di questo cambiamento, di questa crisi, anche l'oblio. E' bene che oggi qualcuno pensi di richiamare, è importantissimo che si richiamino anche questi avvenimenti. Io ho letto tante cose anche su questi avvenimenti, anche recentemente è stato ristampato un libro sui fatti di allora, dove vengono molto esaltate le esperienze di partecipazione spontanea, eccetera. Io ho notato che c'è sempre stata invece in queste, chi ha parlato di queste cose, una sottovalutazione di quello che era invece il tessuto sociale e politico che ha diretto tutto quello che è avvenuto. insomma c'è sempre stato non la volontà, come dire, di costringere, di coartare, di indirizzare, ma la volontà di non perdere di vista, voglio dire, comunque il compito che le forze sociali, le forze politiche avevano, le responsabilità che avevano. Io credo che se si è mantenuto un clima di grande partecipazione, ma anche di compostezza, questo sia dovuto al ruolo dei comitati antifascisti, che sono sorti un po' ovunque, che erano tantissimi. Io vi dicevo che ho ritrovato dei documenti, che ci sono elenchi di persone, anche fisiche, che hanno partecipato e che davano il loro nome e le loro generalità, perché si sentiva la responsabilità di tenere un coordinamento, perché non ci fosse nessuno sbandamento, ecco voglio dire. Quindi, secondo me, va sottolineato l'importanza di questo tessuto politico che allora esisteva e che oggi non esiste più. C'erano tutti i partiti, però certamente il Partito Comunista da una parte, la CGL dall'altra e l'AMPI sono stati quelli che hanno diretto, anche nelle persone, voglio dire. Il segretario del Partito Comunista, l'ora della Federazione Comunista, era Umberto Scardaoni, non era una persona qualsiasi. Il presidente dell'AMPI, Giovanni Urbani. Il segretario della Camera del Lavoro, Imo Imovigli. Prima c'era stato Armando Magliotto. Insomma, sono persone che hanno lasciato un segno poi nella città di Savona. Il loro rapporto è stato determinante, anche se non è mai stato prevaricante, perché questa preoccupazione di coinvolgere tutti e di far cadere anche gli steccati che in passato c'erano stati tra le varie forze politiche è molto importante. Tenete conto che Urbani era senatore, già che vi dicevo. Le interrogazioni che sono state fatte al Parlamento erano di Urbani e di Varaldo, cioè delle comuniste e del democristiano. Perché nel nome della Costituzione, della difesa della Costituzione, della democrazia, si ritrovava tutti. E questo sforzo era fatto moltissimo anche da chi aveva una maggiore forza, perché i comunisti erano più organizzati. avevano, però c'erano anche i socialisti, c'erano i repubblicani, c'erano per un certo fase anche i liberali ci sono stati. Quindi c'erano tutti, ecco. Quindi senza dubbio ha pesato molto la presenza di quelli che erano più forti, ma lo spirito era sempre questo spirito unitario che presiedeva, insomma, voglio dire. Questo è quanto. Era una stagione straordinaria, ecco, da questo punto di vista, che io non posso dimenticare, perché in quegli anni direi che anche la mia formazione personale si è affinata proprio in quegli anni, perché veramente si riusciva a imparare anche da questi maestri, voglio dire, che ci hanno guidato. C'era questo senso che contavamo qualcosa, perché dentro a un organismo collettivo ognuno sentiva di avere un ruolo importante, perché, anzi, c'era questo spirito proprio di far parte di un movimento più grande. Questo valeva sia nella militanza nei partiti, nei sindacati, sia nel comitato antifascista, sia anche nelle manifestazioni. Credo anche in chi faceva le ronde, che ci fosse questa sensazione di... che si contava perché si era tutti insieme, ecco, perché si faceva parte di un organismo più grande. Questo senso della collettività, di qualche cosa che andava al di là del singolo, era molto importante. Non ci si sentiva assolutamente dei supereroi, e questo nessuno, credo, che lo sentisse. E c'era questa grande speranza nel futuro, anche, voglio dire. Si avevano le idee chiare di dove stava il bene e dove stava il male. Questo era. Era anche quello che io, per esempio, come insegnante, il messaggio che cercavo di trasmettere ai miei studenti, no? Cosa doveva servire la scuola? A far capire dove stava il giusto e dove stava l'ingiusto. Non era importante schierarsi già in una parte politica, eccetera, ma bisognava avere le idee chiare su queste cose. Queste cose facevano sì che la partecipazione fosse una partecipazione anche giovanile, molto consapevole. Questo, non so come dire, è difficile da spiegare, forse, oggi. Ma la sensazione di far parte di un grande movimento collettivo, di un organismo più ampio, era una sensazione bellissima, voglio dire. Tutto il contrario dell'individualismo che oggi sembra prevalere. C'è stata la disillusione perché c'è stata la crisi, la crisi anche dei partiti, la crisi della politica legata alla crisi generale di carattere morale, se vogliamo, ma anche di carattere economico, insomma, che ha colpito in particolare la nostra zona, la nostra città. Quindi, certamente, quelle grandi speranze in gran parte sono state, sono cadute, anche se io non perdo mai la fiducia. Io penso che anche dopo momenti di stasio, dopo momenti di difficoltà o di crisi, poi ci sia sempre una luce da seguire. Mi pare che anche oggi certi movimenti giovanili dimostrano che si può sperare che il futuro sia diverso dal presente, che certamente non è quello che noi giovani di allora ci aspettavamo e pensavamo di costruire. Adesso ci sono tutti questi sistemi e questi strumenti, insomma, che facilitano la comunicazione, però secondo me la facilitano fino a un certo punto. Allora ci si ritrovava direttamente, perché non c'erano i miei telefonini, voglio dire, quindi ci si andava a cercare nei posti dove si sapeva di trovarsi, quindi ci si trovava facilmente in strada, in piazza, nelle sedi appunto dei partiti, nelle sedi dei sindacati, nelle parocchie, nelle società di mutuo soccorso, nelle associazioni. Quando succedeva qualcosa andavi lì, perché lì cercavi delle risposte che si cercava di dare poi tutti assieme, insomma, c'era la partecipazione, quella che oggi non c'è, cioè anche se ci sono questi strumenti eccezionali, quello che manca, secondo me è proprio questa idea di una partecipazione collettiva, come soggetto collettivo, quindi questo, secondo me oggi non c'è la differenza, è questa, forse c'era anche tutto un contesto che oggi non c'è più, anche diciamo di tipo internazionale, di tipo così, poi c'erano i movimenti anche civili, già per i diritti civili, c'erano tutte queste cose che creavano un clima diverso, un clima che chiedeva appunto a tutti di fare qualche cosa, di non estranearsi, quindi questo era, forse il clima generale, negli anni 70 hanno rappresentato questo, sono stati anche momenti terribili, ma momenti di grande esaltazione, voglio dire, ci sono state le lotte anche per i diritti civili, appunto in quegli anni pensiamo al divorzio, poi successivamente all'aborto, sono state cose che hanno rappresentato per tutti noi giovani di allora elementi di formazione, si poteva acquisire, prendere da quello che c'era, poi c'era il Vietnam, c'erano queste cose, c'erano anche queste lotte che avevano anche una grande valenza simbolica, insomma fortemente, che ci motivavano a partecipare, mettevamo tutto insieme, praticamente faceva parte, tutti questi elementi facevano parte delle spinte che ci spingevano, ci portavano avanti e ci facevano pensare che si poteva costruire un futuro migliore, che poi per certi aspetti, io prima ho detto in gran parte le speranze sono state poi tradite, però non è poi del tutto vero, perché certi semi poi hanno comunque portato dei frutti e porteranno dei frutti, perché voglio dire, quando noi ci richiamiamo al passato, ci richiamiamo anche oggi ai valori della Costituzione, della Resistenza, quei semi hanno dato poi dei frutti magari più evidenti negli anni 60-70, poi può esserci l'impressione di un momento che può durare anche dei decenni di dimenticanza, ma poi riaffiorano anche oggi in manifestazioni che quando hanno questo carattere di partecipazione corale, collettiva, dimostrano che qualcosa di positivo, che spinge anche noi anziani ormai ad andare avanti, a dare ancora un contributo a queste lotte esiste ancora, insomma questo io posso dire, non riesco a dire altro.